Il Museo Piemontese dell'Informatica Voglio ringraziare, abbiamo avuto tanti relatori, espositori da tutta Italia e anche dall'estero, vogliamo ringraziare la compagnia di San Paolo, Sistemi e IBM che hanno sostenuto in particolare questo evento, vogliamo ringraziare questo fantastico pubblico che ci ha accompagnati in questi due giorni assolati e anche tutti i relatori ed espositori che sono arrivati dall'Italia e anche dall'estero. Quest'anno è stato un evento molto più grande rispetto a quello dell'anno scorso e contiamo di ottenere un ottimo successo anche prossimo anno, pertanto vi aspettiamo nel 2018, sempre a maggio, per la terza edizione di Abito Vistoli.